difficile se non impossibile fare previsioni su quali conseguenze economiche potrà avere questa pandemia. La difficoltà dipende soprattutto dal fatto che la situazione è in continuo mutamento, cambia di minuto in minuto, anzi peggiora di minuto in minuto. Fino a un paio di giorni fa dico che avevo delle certezze, però insomma diciamo delle convinzioni. Ciò che era accaduto prima a Wuhan e dopo a Codogno mi forniva quasi delle sicurezze. Sarebbe stata ancora una questione di giorni, una decina di giorni, forse due settimane, ma poi si sarebbe invertita la rotta. Oggi sembra che i tempi invece si possano dilatare, anzi è quasi certo che i tempi si dilatteranno. I governatori delle regioni del nord continuano a lanciare allarmi e questo ovviamente è preoccupante. Capisco quando Zaya esorta i media a non fornire notizie positive farebbero probabilmente ingenerare nelle persone un ottimismo fuori luogo e soprattutto un ottimismo deleterio visto che magari qualcuno si sentirebbe anche autorizzato a riprendere comportamenti non consoni all'attuale situazione. Chiaramente se la situazione dovesse protrarsi ancora a lungo e senza dubbio nascerebbero diverse problematiche, ma sarebbero comunque problemi essenzialmente riconducibili a due tipologie, problemi di carattere economico e problemi di carattere sociale. Partiamo da questi ultimi. Già ora ci troviamo in una situazione che non ha precedente, almeno dalla rivoluzione industriale ad oggi, ma infatti il mondo o comunque gran parte di esso si era fermato, letteralmente fermato. Ma cosa accadrà se tutto ciò dovesse continuare a lungo o perlomeno ancora per un certo periodo di tempo? Beh, c'è chi ipotizza che gli effetti depressivi sulla popolazione, diciamo gli effetti derivanti da questa reclusione, insomma passatemi il termine un po' eccessivo, potrebbero avere conseguenze ancora peggiori del virus. Io personalmente non sono così pessimista, è lo dico subito. Però obiettivamente siamo in una situazione senza precedenti che quindi apre scenari che non possono essere prevedibili. Oggi risultano dei deterrenti le multe per coloro che non si attengono alle disposizioni governative. Ma se col passare del tempo e con l'acquirsi quindi dell'inquietudine da parte della popolazione le violazioni dovessero moltiplicarsi, e beh, attenzione perché le forze dell'ordine potrebbero trovarsi loro stesse in una situazione di stress. Naturalmente la paura più delle multe oggi porta gli italiani, dopo tutto, ad essere digi alle disposizioni. E naturalmente la paura potrebbe anche essere indotta e ampliata dai media. Guardate, la colonna di camion militari che nella nottata hanno portato fuori della città di Bergamo diversi ferretri, è chiaramente un'immagine scioccante. Ma i media, a questo punto di vista, potrebbero essere ancora più incisivi. Ad esempio, qualche telecamera potrebbe entrare in qualche reparto di terapia intensiva e riprendere immagini raccapriccianti. Insomma, dal punto di vista sociologico stiamo per vivere esperienze mai viste in precedenza. Oggi infatti ci dicono che, pur nel rispetto della privacy, possono monitorare attraverso i cellulari quanti di noi non si attengono alle disposizioni ed escono dalle mura domestiche. Ci dicono che la privacy è rispettata perché si valutano gli spostamenti delle persone nel loro complesso, ma non singolarmente. Sì, penso però sia avvenuto più di qualche dubbio anche a ciascuno di voi. Detto questo, voglio invece arrivare all'altra tipologia di problema che appunto comporta la situazione che stiamo vivendo e nella quale ovviamente ho anche maggiore competenza, ossia l'aspetto economico. Oggi i media ci riferiscono che la BCE avrebbe fatto dietro fronte, annunciando un quantitative easing per 750 miliardi di euro. Certamente è un importo assolutamente ingente. Ebbene, guardando alle borse europee, l'annuncio da parte della Lagarda ha avuto un effetto, sì, però non è stata una risposta euforica da parte dei mercati. I vistini del vecchio continente hanno guadagnato insomma mediamente un paio di punti percentuali. Visti i crolli dei giorni scorsi, possiamo considerare questo guadagno odierno quasi frazionale. New York per il momento viaggia intorno alla parità. Purtroppo quindi devo constatare come, ahimè, come avevo previsto, che le banche centrali per quanto continuino ad immettere liquidità nel sistema, che poi alla fine è anche la sola cosa che sono in grado di fare, però non ottengono risultati apprezzabili. Dovrebbero intervenire i governi, ma attenzione. Seguite un po' questo circolo, poi vediamo alla fine se è virtuoso o se è un circolo vizioso. Cosa possono fare i governi per dare fiato all'economia? Ovviamente l'unica cosa che possono fare è ridurre il carico fiscale. Diminuendo le entrate, lo Stato però si troverà in difficoltà, perché comunque ha delle spese indiperibili. Ovviamente pagare le pensioni, gli stipendi a tutti i dipendenti pubblici, ma non solo ovviamente, deve anche sovvenzionare tutti i dipendenti privati che si trovano in difficoltà proprio per la situazione che si è venuta a creare con la pandemia. E quindi lo Stato ha la necessità di indebitarsi ulteriormente per far pronte alle spese che ho definito indifferibili. Ed allora chi acquista i nuovi titoli dello Stato che dovranno essere emessi? In altre parole, chi acquista il debito pubblico? La risposta anche qua è scontata, la banca centrale. E infatti la Lagarde ha annunciato questa manovra per 750 miliardi. Però c'è un problema. Ed ossia che tutto questo funzionerebbe se servisse ad aumentare la produzione, il PIL. Insomma, l'aumento del PIL infatti farebbe incrementare le entrate dello Stato, visto che aumenterebbero le entrate tributarie, allora questo circolo potrebbe rivelarsi virtuoso. Ma noi invece facciamo tutto questo perché abbiamo bloccato la produzione. Ossia, con i 750 miliardi della BCE non facciamo aumentare il PIL, non facciamo aumentare le entrate tributarie. E quindi che fine fanno questi 750 miliardi? Ammesso, perché non ho neanche la certezza, ma ammesso che quei denari arrivino alle famiglie, ripeto, anche se ci credo poco, comunque non avrebbero che un effetto effimero, nemmeno un effetto placebo. Prima o poi finirebbero in inflazione. D'altronde, carissimi ascoltatori, l'economia, al contrario di quello che si crede, è una materia semplice. Penso che tutti noi siamo in grado di comprendere che se in un certo periodo non si produce nulla, o quasi insomma, mentre, come logica vuole, nello stesso periodo il mondo consuma, perché, ebbè, le persone perlomeno devono sopravvivere. Quindi, allora che conseguenze si ha? Ossia che se non produciamo ma consumiamo, la conseguenza è che ci impoveriamo. Sarà brutto dirlo, è brutto dirlo, ma è così. E qual è la cosa peggiore per noi italiani? È che veniamo da anni nei quali ci siamo impoveriti. Ed ora, visto che in questi giorni tutti hanno preso dimestichezza con i grafici ed in particolare con le curve, ebbene, così come la curva dei contagi, dei contagiati, insomma, diventa simile alla curva dell'impoverimento. Cioè, in questo periodo entrambe queste curve si impennano. Ripeto, non possiamo sentirci confortati dal fatto che questo impoverimento riguarderà tutto il mondo. Perché per i paesi come la nostra Italia, che viene da anni di austerità, sarà ancora più dura. All'impoverimento non ci si fa l'abitudine. la nostra speranza è che questa esperienza insegni che, anche agli altri paesi europei, che l'Unione Europea, anziché un acceleratore, è un freno. E andare in salita con i freni tirati è proprio una cosa insensata.